Salve a tutti ragazzi sono Zomivest e in questo video tutorial vi mostrerò come attivare la macchina volante nella mappa Voyage of Dispersing avete capito bene, state vedendo bene, c'è una macchina volante che sorvola la nave, fa un po' di giri intorno, poi sparisce, droppa anche dei bonus quindi lo scopo di questo easter egg, che non è l'easter egg principale, è un side easter egg, è quello appunto di avere questa macchina volante che ci droppa dei bonus una volta sparita non si sa se ritorni magari a round più alti, se sapete qualcosa magari fatemelo sapere ma in questo video tutorial vi mostrerò come attivarla, noi l'abbiamo fatto per la prima volta in live infatti vedrete spezzoni della live anche in mezzo al tutorial perché poi ho rifatto il tutorial, solo gli step in singolo ma probabilmente o in singolo non si può attivare o mi si era bugato qualcosa perché la macchina non era azionabile quindi vi mostrerò lo spezzone della live, comunque gli step sono corretti allora innanzitutto dovrete attivare il manufatto per poter accedere a determinate zone della mappa il manufatto si trova in fondo alla nave rispetto allo spawn una volta attivato il manufatto dovrete costruire lo scudo, se non sapete come costruire lo scudo trovate diversi tutorial online ci sono i soliti tre pezzi da prendere, poi si costruisce sul tavolo da lavoro questo tavolo da lavoro qui probabilmente è il più comodo una volta che avrete preso lo scudo tornate dal lato dello spawn scendete per questa discesa qui e troverete questa grande cassaforte con un contatore numerico appiccicato sopra prendete in mano lo scudo e date un colpettino a questa cassaforte vedrete che il contatore numerico cadrà potrete quindi andare a raccoglierlo questo contatore numerico lo utilizzeremo per applicarlo a quattro cassaforti che sono sparse nella mappa ma questo lo vedremo in seguito perché prima dovremo trovare dei pezzi da inserire in queste cassaforti i pezzi che dovremo andare a trovare sono delle parti di scheletro umano ed ogni pezzo ha associato un numero il numero varia da partita a partita quindi mi raccomando dovrete andare a vedere voi i numeri della vostra partita non prendete i numeri che vi mostro qui come per buoni allora io vi mostrerò intanto le posizioni del pezzo dei pezzi da prendere il primo pezzo si trova qua subito di fianco a dove abbiamo preso il coso della cassaforte ed è un femore come vedete è messo qui su questa scrivania e se voi guardate bene sulla destra per terra c'è un pezzo di carta su questo pezzo di carta c'è scritto un numero nel mio caso il numero è 1912 1912 che è la data dell'anno in cui è successo il disastro del titanic quindi associeremo a questo pezzo a questo femore 1912 io in questo caso sono in giocatore singolo quindi non ho ancora raccolto il pezzo mi raccomando questo è importante se siete in 4 invece potete raccogliere un pezzo a testa se siete in 2 è meglio che li lasciate lì e li raccogliate anche questi dopo il secondo pezzo è una mano si trova sempre qui nella stanza corrispondenze e si trova esattamente su questa scrivania qui e in basso per terra a sinistra troverete anche qui un numero scritto su un pezzo di carta il numero nel mio caso era 2340 2340 all'ora in cui è successo il disastro del titanic quindi insomma giusto per darvi un po' anche per farvi ricordare meglio i numeri ok quindi lasciamo ancora qui questa mano andiamo verso il pezzo successivo che è un piede e si trova qua sotto nella stanza di carico dove ci sono le macchine lo trovate qui da questi scatoloni e subito sulla destra sarà presente anche qua un numero scritto su un pezzo di carta 4250 4250 4250 immagino siano il numero di persone che erano sul titanic ma non ne sono sicuro quindi lasciamo ancora qua questo pezzo e l'ultimo pezzo che dovremmo andare appunto a vedere è questo teschio che si trova esattamente sopra la stanza delle corrispondenze quindi esattamente sopra a dove abbiamo preso il contatore dalla cassaforte perché ho lasciato questo per ultimo perché anche questo ha associato un numero però è molto difficile da vedere si trova tipo qui dietro le bottiglie e quindi lasciandolo per ultimo andremo per esclusione quindi se vedrete un numero che non è incluso nella lista dei numeri che vi siete segnati saprete che è il teschio perché ovviamente i pezzi sono 4 avete 3 numeri quindi uno potete andare per esclusione ottimo allora iniziamo ad andare ad azionare le cassaforti la prima cassaforte si trova esattamente qua dietro a dove c'è il timone molto vicino qui e vedete c'è questa specie di scatola nera per terra dovremmo andare ad interagirci e una volta che ci appunto interagiremo con il tasto azione la cassaforte si aprirà e sulla porta comparirà scritto un numero appunto su perché andremo ad appiccicare il contatore numerico nel mio caso c'era scritto 1912 che era appunto il femore quindi cosa ho fatto sono tornato nella posizione del femore ho preso il femore sono tornato di nuovo dalla cassaforte ed ho inserito con il tasto azione il femore vedrete che il femore entrerà all'interno della cassaforte la cassaforte quindi si chiuderà e sempre utilizzando lo scudo tirando un colpettino faremo cadere ancora una volta il contatore che dovremo poi andare a raccogliere nuovamente potremo quindi recarci dalla cassaforte successiva che si trova qua entrando appunto nella scala di corridoi principali scendendo le scale avremo questa stanza qui qua sulla sinistra troveremo la seconda cassaforte l'ordine non è importante l'importante è che ci appiccichiate sopra il numero e leggiate che numero vi compare nel mio caso come potete vedere è comparso un numero che non ho mai nominato quindi so che si riferirà al pezzo della testa del teschio insomma quindi il numero in questione era 1404 1404 che è il giorno e il mese del disastro del Titanic che era l'unico numero che non avevo trovato in giro quindi vado a prendere la testa torno alla cassaforte la inserisco e do di nuovo un colpo con lo scudo per riprendere il contatore numerico la prossima cassaforte si trova al piano subito sotto nella millionaire suite la vedete subito qui appena scesi le scale eseguite la stessa operazione appiccicateci il contatore numerico leggete il numero che esce nel mio caso era 4250 che si trattava del piede che si trova nella stanza punto di carico dove ci sono le macchine quindi sono andato a prendere il piede sono tornato indietro nuovamente e sono andato a inserirlo nella cassaforte ho ripreso di nuovo il contatore numerico l'ultima cassaforte si trova invece nella zona dove abbiamo costruito lo scudo per capirci sotto a dove c'è il manufatto scendiamo le scale e subito sulla sinistra percorrendo il corridoio la troveremo sulla destra qui potremo andare come solito a appiccicarci il contatore e a vedere il numero ma in realtà essendo l'ultimo pezzo sappiamo già quale pezzo è nel mio caso era la mano quindi siccome era dall'altra parte della mappa io l'ho già raccolta quindi ho appiccicato il contatore numerico e ho subito inserito il pezzo vedrete che una volta che la cassaforte si chiuderà con lo scudo non riuscirete più a staccare il contatore numerico se il contatore numerico non cadrà significa che lo step sarà stato completato correttamente e potrete quindi tornare adesso ad andare nella stanza dove ci sono le macchine nella stanza zona di carico e vedrete che qua giù in basso a sinistra ci sarà una macchina con all'interno uno scheletro e premendo il tasto azione questa macchina scenderà verrà come risucchiata nello spazio ecco qui è dove mi sono bloccato io in giocatore singolo la macchina non aveva lo scheletro nonostante le cassaforti fossero tutte attive e lo step fosse completato correttamente quindi non so se ci sia una limitazione in giocatore singolo o se ci sia stato un bug nella mia partita ecco perché vi sto mostrando appunto i fotogrammi della nostra live comunque gli step erano corretti provate magari a rifarlo anche voi in singolo oppure in due giocatori fatemi sapere appunto se funziona ovviamente non potete farlo con la partita con le settings modificate altrimenti non vi fa prendere proprio il pezzo dalla cassaforte grossa all'inizio guardate comunque un easter egg davvero 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 molto 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 carino la macchina fa un po' di giri fa un po' di rumore è molto 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 bella e vi ringrazio per aver seguito questo video se avete apprezzato lasciate un bel like scriveteci qua sotto nei commenti che cosa ne pensate di questa nuova black ops 4 zombies di questa nuova mappa e di questo easter egg in generale da zombies quindi per ora ma soltanto per ora è tutto noi ci sentiamo al prossimo video convinto e mi raccomando di non perdervi le live per l'easter egg che stiamo facendo sia su twitch che su youtube quindi ragazzi grazie ancora noi ci sentiamo al prossimo video convinto da zombies quindi per ora è tutto ciao 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 ciao